il fischio del direttore di gara appoggia l'indietro per Stulaz quindi Ricci quattro giocatori in barriera per il Montecatini parte Stulaz con il destro in tuffo la parata a terra di Petroni ma tutta con il destro sul primo palo prolunga di testa Bandinelli poi libera in qualche modo la difesa del Montecatini cerca lo spazio poi l'appoggia ancora l'indietro per Stulaz l'apertura per Fiamozzi che si è sedito intelligentemente il cross arretrato per Bandinelli la conclusione a botta sicura trova la deviazione Cipriani Ricci entra in area di rigore Ricci l'appoggio per Mancuso che non trova la porta poi la spallata di Ricci a Cipriani tutto regolare secondo il signor Volpi Ricci mette in mezzo il pallone per Mraz che trova però l'anticipo di Isola palla ancora in calcio d'angolo ancora Stulaz con il colpo di testa di Canestrelli va tutta di Chiaco colpo di testa di Marchizza liberare recupera Marseglia nuovo cross tiro cross Brignoli chiamato alla deviazione sopra la traversa Marchizza il cross in mezzo per Mancuso che va a segnare il gol dell'1-0 Damiani appoggio per Marchizza in area di rigore l'appoggio per Mancuso Damiani Bandinelli in palleggio Bandinelli cerca la conclusione la trova col pallone che termina sul fondo palla restituita proprio a Fiamozzi lancio per Mancuso posizione regolare mette giù molto bene l'appallone Mancuso poi prova l'appallonetto ribattuto da Petroni rimette in movimento per Bandinelli che prova la conclusione ancora Petroni Marchizza Mancuso ancora Marchizza il cross in mezzo Bandinelli ferma l'appallone poi va a mettere alle spalle di Petroni Ricci palla tagliata per Fiamozzi che va al cross in mezzo Damiani da buonissima posizione anche lui spara alto sopra la traversa di Petroni c'è deviazione però recupera il pallone Romagnoli l'appoggia corto per Stulaz lancio di Stulaz per Mancuso ha provato la girata al volo Damiani in profondità per Bandinelli si ripropone anche Damiani pallone per lui in area di rigore ed eccolo il terzo gol di Damiani non è che arriva dentro la girata di Meraz e poi Mancuso che la mette dentro posizione regolare su questa azione su questo gol arriva anche il triplice fischio quindi non c'è stato recupero al 45esimo minuto esatto inizia adesso il secondo tempo di Empoli Montecatini si riparte dalla punteggia di 4 a 0 per gli azzurri quindi Ricci per Belardinelli prova il destro Belardinelli palla che sorvola la traversa di non molto Empoli che prova venire avanti in area di rigore con Meraz la conclusione trova la deviazione di Santin calcio d'angolo Meraz poi Stulaz con il destro palla che termina fuori DC Romagnoli cross in mezzo il colpo di testa è vincente stavolta da parte di Meraz che firma il primo gol della ripresa poi Bandinelli per Romagnoli Pirrello cross in mezzo il colpo di testa molto bello e il gol di Belardinelli quindi si riparte da Brignoli colpisce il pallone di testa Piscopo che innesca da fondo sulla destra di Ricci Ricci che arriva fin aria di rigore il cross in mezzo Bandinelli ferma il pallone poi la conclusione viene ribattuta da Granucci Stulaz passa il pallone e Piscopo va a mettere in fondo al sacco il pallone del 7 a 0 un gioco da ragazzi per lui Ricci e Kong si libera bene Kong fa fuori un paio di avversari poi ne salta un terzo il cross in mezzo per Meraz e la conclusione al volo di Ricci Pirrello cross in mezzo il colpo di testa di Ricci palla che rimane nei pressi dell'area di rigore Aslani alla conclusione sul fondo Ricci il lancio di Ricci a cercare Belardinelli che prova un numero incredibile viene fermato quindi Pirrello Meraz ancora Pirrello area di rigore il cross Piscopo è facilissimo per lui segnare il gol dell'8 a 0 battuta con il destro c'è il gol anche del giovane centrocampista e come detto arriva anche il fischio di chiusura del signor Volpi di Arezzo termina 9 a 0